Lo stato di salute del PD toscano, la recente indicazione del PDL e del candidato che lo sfiderà le prossime elezioni regionali, le polemiche sui CIE. Tanti gli argomenti toccati da Enrico Rossi che oggi ha presentato un pacchetto di proposte per i giovani nell'ambito della sua campagna elettorale. Rossi rivendica la bontà del modello toscano. Siamo un partito unito, io penso che questa esperienza positiva debba essere sottolineata, valorizzata per quello che è e forse anche guardata più attentamente dal livello nazionale. Positivo che il centrodestra abbia scelto Monica Faenzi. Si è candidata, io mi auguro che il confronto ci sia, sia serio, bene che ci sia un candidato. Commentando poi l'annuncio della candidata del PDL di voler abrogare la legge toscana sull'immigrazione. E noi l'abbiamo fatta, non siamo d'accordo. In tema di immigrazione Rossi ha risposto alla volontà espressa dal ministro Maroni di aprire anche in Toscana i centri di identificazione ed espulsione. Rossi si è detto possibilista verso strutture di piccole dimensioni dove la permanenza sia breve e in cui si rispettino i diritti umani. Penso che per alcune situazioni che sono identificabili sia possibile proporre processi di regolarizzazione. Ovviamente non per chi si è fatto carico di reati gravi e importanti, questo no. Ma penso che questa possa essere una strada sulla quale si discute.